Credevo fossi solo e che pensassi a me Concerti in tempo di pandemia? Perché no? Purché siano in stile picnic. Un'idea inedita partorita dalla mente di Simona Bencini da 30 anni voce della band di Rotta su Cuba. Questo musicnic è partito tempo fa in quei tre lunghi mesi del lockdown. Un lockdown durante il quale Simona, come tutti, assisteva impotente allo stop della musica dal vivo. Quel parco davanti a casa sua nel Novarese, sul Lago Maggiore, vuoto. Ma perché vuoto se era comunque possibile fare dei picnic? E perché allora non fare un picnic musicale? Pochi appassionati, una cena leggera, seduti sul prato e la musica dal vivo. Che musicnic è anche racconto. Racconti e musica che si intrecciano come il picnic si intreccia col concerto. Quello di Raine Grandi, protagonista nel weekend appena trascorso della prima tappa. Non è facile però, è tutto qui. Ero grintosetta, eh? Chi fermerà la musica? Cantavano i Pooh. La risposta potrebbe essere una pandemia. Invece no. Queste due colleghe e soprattutto amiche ci dimostrano che non deve essere necessariamente così. Questo tuo profondo amore, questo tuo profondo amore. Grazie. 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 Grazie.